In Ucraina si combatte da 547 giorni. Soltanto ieri il Papa aveva parlato di una guerra crudele, con tanti bimbi spariti e tanta gente morta. Tuttavia oggi, 24 agosto, gli ucraini di tutto il mondo ricordano il 32esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica. Un giorno che vuole essere di festa, nonostante tutto, e un modo per rivendicare la propria libertà. Oggi il presidente Zelensky, in un discorso tenuto a Kiev, ha detto che l'Ucraina non permetterà che la sua indipendenza venga fatta a pezzi. E ha aggiunto, mentre ci sono stati numerosi tentativi nel corso della storia di dividere il paese, non c'è stato un singolo giorno dall'inizio dell'invasione russa, in cui l'Ucraina abbia perduto la sua unità. La festa ha coinvolto tante persone anche in Italia, molte delle quali fuggite dalla guerra. Un ampio gruppo di chiavari sta trascorrendo questi giorni a Montemoggio, nel comune di Borzonasca, e questa mattina ha pregato per la pace. Abbiamo finito, appena abbiamo finito la Divina Riturgia, ringraziando il Signore per 32 anni dell'indipendenza dell'Ucraina, del nostro paese. Oggi abbiamo ringraziato il Signore che siamo un popolo libero e vogliamo rimanere liberi. Abbiamo i bambini veramente stupendi che con tanta sincerità hanno pregato il Signore, chiedendo anche la protezione di Dio sopra il nostro popolo. Durante questa settimana fate anche un cammino spirituale per vivere insieme meglio questo tempo. Non me l'aspettavo una reazione così, perché i educatori mi hanno chiesto, ma puoi spiegarci un po' la Divina Liturgia, cosa sono i simboli della nostra liturgia, della nostra richiesta della Chiesa orientata? Io ci ho provato, ma vedo che i ragazzi rispondono, perché durante la liturgia spieghiamo anche tutti i simboli liturgici e soprattutto oggi abbiamo parlato di... Il ringraziamento. Igor, cosa fate durante questa settimana di campo a Montemoggio? Ci divertiamo, facciamo tanti bei giochi e ottez vitali, ci insegna tante belle cose.